Siamo arrivati Molli! Wow! Scusa Mario, ho un mal di testa... Mal di testa? Molli! Puoi provare Moment Capsule Molli Più male? Puoi provare Moment Act Capsule Molli Capsule Molli, tecnologia liquida Facili da deglutire Si assorbono rapide E il mal di testa passa veloce Scappo! Ciao Molli, grazie Carina eh Molli Capsule! Sono medicinali a base di ibuprofene Che possono avere effetti indesiderati anche gravi Leggere attentamente il foglio illustrativo D'Angelini